Benvenuti a Forte dei Marmi, in Bersiglia, dove tutto fa tendenza. Con il primo di agosto è iniziata ufficialmente l'estate 2018. È una moda, è un must, assolutamente. Si sta bene, si vive bene, si fanno le belle vacanze. In tanti bei locali, alla moda, al ristorante della moda, c'è tutto. La Bersiglia è da sempre il mare più amato dai milanesi. Al Forte le vacanze sembra di viverle sul set di un film degli anni 60, nel segno di una tradizione quasi leggendaria, ma sempre e comunque, al passo con i tempi. È un modo di vivere, prendersi il proprio tempo, relax, senza avere la confusione che magari trovi negli altri posti. La bicicletta è il mezzo più usato e lungo i viaggi fanno bella muster di sei negozi griffati che hanno fatto la storia e soprattutto lo stile inconfondibile del Forte, dove la moda regna sovrana. A Forte dei Marmi è cultura, è vivere bene, è arte, è mangiare bene. È sempre bello venire con i bambini, poi per le mater, noi mamma è comodissimo. Tutto a Forte dei Marmi è party, tutto è incredibilmente chic. Presa d'assalto dai turisti, apprezzata dai residenti, amata dai VIP, protagonista dei rotocalchi e delle riviste con le carte, di Forte tracchiude in sé il fascino di un mito davvero intramontabile. Questa giornata...